Oltre a conoscere i gatti si può visitare la piccola Casa Museo. Che cos'è la Casa Museo Gianni Azzori? È una piccola esposizione dedicata a mio papà che qui lavorava il corallo, lavorava l'ossidiana, quindi sono in parte visibili i suoi lavori, ma soprattutto è una esposizione dedicata alla storia di Suballusu. Quindi ci sono le foto, le foto storiche, le foto storiche delle capanne di Suballusu in Falasco, che non ci sono più, quindi noi abbiamo queste vecchie testimonianze, e non solo, ci sono anche delle esposizioni di conchiglie, c'è una vertebra di capodoglio gigante, insomma tutto ciò che può aiutare chi viene qua a capire il contesto, il contesto storico, naturale, e c'è anche una mostra archeologica, perché Suballusu è anche un sito archeologico-nuragico, ci sono le foto degli scavi, ci sono le riproduzioni dei reperti che sono stati trovati qua. Quindi vi aspettiamo!